Allora mister che tipo di partita è stata una partita difficile come sapevamo siamo partiti non benissimo però siamo andati in vantaggio dopo forse il gol siamo un po calati dal punto di vista mentale pensando magari potesse essere una partita facile poi alla fine il manto l'ha recuperata siamo andati sotto di un gol però da lì la squadra è cambiata è cambiata iniziato a giocare palla su palla abbiamo pareggiato ci abbiamo creduto anche sull'ultima palla del primo tempo abbiamo fatto il terzo gol poi il secondo tempo abbiamo abbiamo fatto un buon secondo tempo non rischiando quasi niente poi l'abbiamo chiusa col quarto collo sono contento dobbiamo ancora tanto c'è ancora tanto da lavorare però sono contento della partita fatta da parte dei ragazzi non era facile eravamo in emergenza anche dal punto di vista numerico sono contento della risposta da parte della squadra cosa le è piaciuto di più oggi del perugia ma mi è piaciuto l'atteggiamento ripeto tranne i primi minuti 10 10 15 minuti anche dopo il il vantaggio da parte del manto però dopo alla fine non posso neanche pretendere 90 minuti di alta intensità e non sbagliare niente purtroppo durante l'arco dei 90 minuti qualcosa qualcosa inevitabilmente si sbaglia però noi dobbiamo essere ancora più concentrati più cattivi però sono contento mi è piaciuto tutto mi è piaciuto per come hanno giocato l'intensità però c'è ancora tanto da lavorare e migliorare un giudizio su bianchimano ma bianchimano dall'inizio dal ritiro estivo abbiamo parlato un po lui era un po amareggiato perché tre anni che di proprietà se non ero del perugia sempre andato in prestito tutti gli anni quest'anno voleva cercare di sfruttare l'opportunità di voleva rimanere qui e giocarsela infatti sin dai primi giorni avevamo parlato io ho detto guarda io sono aperto a tutto quindi non ho non ho nessun problema si è messo a lavorare dal primo giorno con continuità ancora lui ha potenzialmente un giocatore ha delle potenzialità che ancora lui non riesce a capire quali sono o meglio deve aumentare ancora le potenzialità che ha perché è un giocatore al di là della struttura fisica è bravo anche ad attaccare la profondità sa giocare deve credere di più nei propri nei propri mezzi essere più convinto di quello che fa durante la gara e deve crescere deve lavorare tanto come sta facendo altronde durante la settimana durante gli allenamenti sono contentissimo perché se lo merito che è un ragazzo eccezionale quindi sono contento per lui terzo gol nelle ultime quattro partite per falserano l'ho detto anche conferenza precara è un giocatore che al di là delle voci di mercato che è normale un giocatore come lui con le qualità che ha è normale ricevere delle richieste da parte anche di squadre categoria superiore però lui non ha mai a meno anche personalmente a meno ma mai ha manifestato la volontà di andare via se sempre allenato con massima attenzione concentrazione ha sofferto un po l'inizio per via di tanti problemi dovuti anche soprattutto l'anno scorso alla retrocessione non era facile però lui dal primo giorno si è allenato con continuità c'è stato un periodo che è stato anche penalizzato dal punto di vista delle scelte tecniche che ho fatto e quindi magari ha giocato poco però non ha mai non ha mai mollato si è sempre allenato ripeto con continuità con serietà è un giocatore che arriva al campo con serenità sorride scherze con i compagni e si allena al massimo e ripeto non ha mai manifestato la volontà di voler andare via quindi sono contento perché anche lui ci sta dando una grossa mano dopo questa giornata diventa una corsa tre con padova e su tirol credo proprio di no ancora il campionato è lungo in questo momento magari siamo le tre che siamo con qualche punto più rispetto agli altri però ancora ci sono tante partite ci sono tanti punti in palio quindi ancora è lunga bisogna lavorare non pensare a niente pensare a noi stessa a lavorare non pensare e non guardare la classifica anche se è difficile oggi era ancora più difficile perché inevitabilmente se c'è una squadra che gioca prima e vince tu hai la pressione ancora ancora di più nel dover a tutti i costi vincere la squadra è stata molto brava anche dal punto di vista mentale in questo a stare sempre in partita commettendo qualche errore di troppo però è anche normale termina così il nostro momento di informazione chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive